La capacità poi dell'ambito territoriale di integrarsi con i singoli comuni. Il reddito di inclusione REI è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale condizionata alla valutazione delle condizioni economiche. Il bando per la partecipazione predisposto al cittadino presso i comuni di residenza resterà aperto a tutti coloro che previo presentazione della domanda di adesione ne vorranno usufruire. Il REI si compone di due parti, beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento delle condizioni di povertà predisposto sotto l'indicazione dei servizi sociali del Comune o del CIOF. Dall'avvio del reddito ad oggi si è assistito a un'evoluzione della platea di richiedenti che fino al 30 maggio scorso potevano beneficiare solamente i nuclei con almeno un minore, una donna in stato di gravidanza o un over 55 disoccupato oppure un disabile affiancato da un proprio genitore o tutore. Oggi invece la misura è diventata universale registrando un incremento delle domande da parte di over 65 o da nuclei composti da una sola persona. Come misura di contrasto universale alla povertà ha questa valenza fondamentale di riuscire ad assegnare a delle famiglie un contributo economico mensile capace di poter ovviamente favorire una risposta differente anche al fabbisogno dei beni anche di prima necessità. Però ecco sono stati coinvolti anche il mondo della scuola quindi per il poter sostenere i minori su fronte del reinserimento là dove ci sono delle criticità ma anche un'assistenza domiciliare e quindi ecco è molto importante perché laddove si interrompe questa forma di collaborazione purtroppo siamo tenuti anche ad interrompere l'erogazione del beneficio economico. I beneficiari percepiranno un contributo economico mensile fino ad un massimo di 539 euro per una media mensile di 230 euro a famiglia. Per mettere in piedi tutto questo nuova normativa l'ambito ha potenziato i servizi assumendo quattro nuove assistenti sociali e assumendo tre tutor che sono tre psicologi che accompagnano le persone che hanno bisogno nell'inclusione lavorativa. Nel sito www.ambitofano.it ci sono tutte le modalità per presentare la domanda in modo particolare ci sono gli orari, i luoghi, i telefoni degli assistenti sociali e degli sportelli REI quindi invitiamo tutti i cittadini a consultare il sito per verificare le condizioni e per poter prendere un appuntamento negli vari sportelli presenti nei nuovi comuni.